Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva, Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse, Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro, Non parlate a nessuno di questa visione Prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore In questa seconda domenica di Quaresima La liturgia ci fa fare un passo avanti, naturalmente, E dove ci porta? Domenica scorsa ci ha portato nel deserto insieme a Gesù Per lottare con il male, con Satana, con il peccato, Per dire andiamo per 40 giorni con Gesù nel deserto A combattere il male che è in noi ed è fuori di noi. Oggi ci porta sul monte, secondo la tradizione, il monte Tabor, Il monte della trasfigurazione, il monte della luce. Ecco perché ci porta qui la liturgia? Per farci intravedere la meta di questo cammino. Il deserto è da attraversare, la lotta è da praticare, Ma la meta non è la lotta con il male, La meta è la trasfigurazione dell'uomo. Come Gesù si trasfigura e diventa tutto luce, Così ognuno di noi dal giorno del battesimo È chiamato, o meglio, ha ricevuto il dono Di poter diventare luce, cioè di poter entrare nella luce di Dio, Di diventare trasfigurato, proprio come Gesù, Un'umanità divinizzata, un'umanità bella, Finalmente pacificata, riconciliata con Dio, con se stessa e con i fratelli. Ecco, questa è la meta della vita cristiana Ed è anche la meta della quaresima, cioè la Pasqua, la resurrezione. Gesù in questo modo, mostrandosi ai suoi tre discepoli, Diremmo prediletti, prescelti, Pietro, Giacomo e Giovanni, Tutto luce, fa intravedere la meta finale del suo cammino. La meta finale non sarà la croce, Ma sarà la luce, non sarà la morte, ma sarà la resurrezione. E questa è anche la nostra meta. Ma c'è una strada, E la strada ci viene indicata dalla voce del Padre, La voce che esce da questa nuvola. Questo brano è pieno di simboli dell'Antico Testamento. Il monte, la luce, la nube, E anche la voce, Questo è il figlio mio amato, Tutta la mia gioia, ascoltatelo. Ecco, nell'ascolto del figlio amato, Anche noi ci scopriamo e ci riscopriamo sempre figli amati E in lui troviamo la strada e la possibilità Di essere lavati, purificati, rinnovati dal peccato E diventare appunto figli, imparare a vivere da figli. Alla fine, dice il Vangelo, Alzando gli occhi, gli apostoli non videro più nessuno, Se non Gesù solo. Solo Gesù, vedere solo Gesù. Ecco l'indicazione per la nostra vita, Per la nostra quaresima. Tenere gli occhi fissi su Gesù, Ascoltare la sua voce, E allora ti troverai, Anche tu, un volto di luce. Anche tu, un volto di luce.